Salve a tutti quanti ragazzi, qui è Panino e la spena che vi parla e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qua di nuovo con un gioco horror, il gioco si chiama Paranormal Territory Ha detto dalla descrizione e dice che questo gioco metterà alla prova il vostro coraggio in questo mondo d'horror Ma prima di cominciare mi raccomando lasciate un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale E adesso cominciamo subito Ecco qua, il gioco è questo qui, questa è la schermata principale Start Game, vediamo Ah, ok, questo gioco è una sorta di test che identifica il tuo disperato horror game Ok, vabbè, vabbè sì, qui dice vabbè, ascoltare con headphone Cominciamo, va Tesoro, sono a casa Siamo appena tornati a casa Ho lavorato duramente e sono molto stanco Come una foria Ma si va a riposare Dove siete tutti quanti? Effettivamente, scusa, torno a casa stanco da lavoro, vorrei mangiare Eh, pure sera Non è divertente, effettivamente Stanno giocando a nascondino Vabbè, vediamo Missione Trovare la moglie e i bambini Girare attorno alla stanza Ok, così si muove Qui va davanti Eh, vabbè, tranquilli, no? Oh, il televisore Mamma mia, che casse che hanno Ne voglio pure io Qua una rivista Eh, magari se ne andate in vacanza Mannaggia lei Vabbè, andiamo avanti Oggi muori Perché? No Ma tu muori, non ho capito Che cacchio Eh, scusate Chi siete voi? Con sta cosa in mano Quanto è brutto Pure ne Sarà l'uomo nero Sangue che cade Mi sa che abbiamo una perdita di sangue dalle tubature Una parete mestruata Eh, eh, eh Qui c'è un foglio Leggiamo Legge Mila È molto offesa con te Eh, io spero che quando tornerai Vabbè, gli spiegherai tutto quanto Lisa Non so chi siano Né Mila Né Lisa Vabbè, andiamo Ma che cacchio Il demone È dentro noi Qui tra l'altro C'è una stella Oddio Che cacchio Oh mio Dio L'atmosfera È stata fatta molto bene Già che rispetto ai classici giochi horror È più colorato E illuminato Va Non vorrei sbagliarmi Alice, Alice Che cacchio è sta Alice Ecco qua mio figlio L'ho trovato È sparito Oddio Chi è quello C'è qualcuno Lì sopra Che gira Tu sarai il prossimo Oh mio Dio Sarò il prossimo Andiamo di qua Esploriamo Lì c'è una macchina Che si muove Cosa c'è Che cacchio Mia moglie è diventata l'uomo nero Vabbè Non ho capito chi cacchio è sta Alice Ma vabbè Signorina Dove vai Oh mamma mia Tutto che è lì sotto Ti serve una mano Vabbè Esploriamo va Qua cosa c'è Ti ho vedi Beccato No Beccato No Qua degli specchi che Non riflettono niente Quadri in bagno Questa mi era nuova Ma vabbè Magari questi hanno stile Tra l'altro hanno pure una bella casa Vorrei La vorrei pure io Qua cosa c'è Qua c'è qualcosa Si può aprire No Non c'è niente Un bagno solo per la lavatrice Qua c'è qualcosa Oddio Che cacchio Eh Se mi giro Qui c'è qualcosa La parete è strana No ma Sarà soltanto così In effetto Dai Finisci di ridere Vai Insopporta besta Rizzata Me ne vado Va Ecco dove eri finito E vieni qua Te ne sparisce Ma di nuovo Trovo il bambino Se ne va via Ma guarda che bello C'è due letti matrimoniali Ma che cavolo Ma scusatemi Con quante coppie ci stanno C'è due letti matrimoniali Qua c'è una luce Non mi fido Se devo essere sincero Ma Entriamo lo stesso E appunto Mi volevano pure Chiudere dentro Avanti Ma Qui ho esplorato tutto Oddio Oddio Qui c'è qualcosa Oddio Che è sto rumore Qua c'è Eh vabbè Giungiamoci anche questo Dal vetro Non vedo niente Si è aperta questa antena C'è qualcosa qua No Non c'è niente Vabbè Andiamo avanti Ah qui c'è una porta Che prima Non ho visto È chiusa Non si apre Dove cacchio Devo andare Ah qui il bagno Che si chiude da solo Ah c'è un'altra Che cacchio Mamma mia Voi siete pazzi Che io leggo tutte Ste scritte sui muri Voi siete veramente Pazzi Qua c'è qualcosa Eh ma Eh vabbè ma qui giocano a nascondino Vabbò Andiamo Anche adesso si apre quella porta Ah si è aperta Adesso Andiamo va Un garage Ma la macchina dov'è Il mio bel ferrarino Che cacchio è successo Oh Che è che mi ha rovinato le pareti Oh Esigo subito una spiegazione Ma vado qua A far protesta Beh Non ti sbattere le porte in faccia Oddio Che cacchio è successo Questo è casa mia Oh E che erano quei tizi qua fuori Qua c'è qualcosa Ma che cacchio Che posto è questo Rumori alquanto inquietanti Qua c'era il bagno Come me l'hanno ridotto il bagno Mio dio Eh vabbè oh Scusa è casa mia Ti può uscire almeno Io me ne vado Ciao Non posso andarmene via Sento delle grida Va Entra Oh mio dio Ma quello è un corpo E hanno ammazzato la moglie Così può leggere Sono delle scritte Ma non si possono leggere Qua Dove c'era il bambino Chiusa Ma perché mi devono chiudere le porte Qua Il bagno Non c'è niente La finestra si può aprire Eh che cacchio Oh tutto ok Qua c'è la camera del bambino Non c'è più il giocatore Oddio che cacchio è sta cosa Qua c'è la camera del bambino Eccolo Eccolo Oh Sei bene Tutto ok Domando così per sapere come va Qua cosa c'è Oh mio dio Oì Eh Volevo sapere Volevo soltanto chiedere un'informazione Qua Eh una testa volante Scusi Ehm Mi sa dire dove è mia moglie Eh E per caso dove è Cioè Qua loro è un corpo Però non è detto che era mia moglie Qua c'è qualcosa C'è un letto C'è qualcosa con me Eh Salve Eh Mi raccomando Metti la temperatura dell'acqua bene Se no Ti fai male Non trovo niente Andiamo ad altre parti va Chiusa Che cavolo devo andare Qua non posso leggere Non so che devo fare Ah si è aperto finalmente Che cavolo Eh Ehm Ma che succede Che ho fatto Dai su Mamma mia Vai dal dentista Veramente Ehm Ah il mio risultato Il risultato Eccellente Tu Hai salvato Perfettamente Uno più Ma va bene Compostezza E prudenza Tuttavia Tu hai una chance Di fare un Tic Oddio Rischierete di avere Un tic nervoso E doppia adrenalina Vabbè Dai l'adrenalina Ci sta Il tic nervoso Più o meno Va Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se vi è piaciuto Lasciate sempre un bel mi piace Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Salutatemi Le vostre paure Io come sempre Vi auguro Una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti